Buongiorno ragazzi. Questa settimana la lezione verte sugli schemi di attacco e sulle combinazioni di attacco condotti dai centrali. È di fatto il completamento di quello che è il lavoro intrapreso la passata settimana e segue lo stesso schema. Ci apprestiamo a fare un'analisi prima sulla divisione femminile e poi sulla divisione maschile, cercando di capire quali sono le varianti, se ce ne sono, e focalizzandoci su quelle che sono le esigenze dettate dai due modelli di prestazione che, come abbiamo già visto nel video precedente, sono estremamente caratterizzanti e differenti l'una dall'altra. Alcuni di voi hanno ricevuto via email una sorta di approfondimento o chiamiamoli appunti sulla lezione fatta sugli schemi di gioco. Questo perché? Perché mi è stata manifestata l'esigenza di avere una sorta di approfondimento, che poi non è corretto parlare di approfondimento. È soltanto un modo diverso per magari digerire meglio le informazioni. Se avete esigenza di questa parte aggiuntiva, iscrivendovi alla mailing list del blog, riceverete tutti quanti quella parte, diciamo, diversa, con formato diverso per fruire delle informazioni. Ci tengo a sottolineare che non è materiale aggiuntivo per quello che è il vostro esame finale. Quello che vedete in questi video è assolutamente sufficiente per affrontare con profitto il vostro esame di fine corso. Non li metto, diciamo, in via pubblica per un semplice discorso, perché non voglio obbligare persone ad avere delle lezioni ridondanti di magari argomenti che sono già chiari soltanto guardando le lezioni. Ok? Quindi, se ti va bene, se capisci, se hai tutto chiaro dopo che hai guardato la lezione frontale, non hai esigenza di avere questo materiale aggiuntivo. Quindi è inutile che sovraccarichi il tuo materiale da dover, diciamo, guardare, da dover studiare. Se invece ti fa piacere avere una condizione di tipo cartaceo più schematica, magari per te più semplice, per te più facile da studiare, allora lascia pure la tua mail e riceverai anche tu degli approfondimenti a riguardo di questa tematica. Ok? Fatta questa piccola postilla, procediamo a guardare quella che è la lezione del giorno e ci addentriamo sulla divisione femminile. Coerente ripartire da qui, facendo un rapido ripasso di quelle che sono le combinazioni. L'altra settimana ci siamo concentrati sui colpi di attacco degli esterni, questa settimana ci focalizziamo appunto sui colpi dei centrali. E nei colpi dei centrali abbiamo tutti i giochi vicini al palleggiatore, quindi la 1, la 2, la B, la C, la 3 ovviamente non la vedremo perché è un colpo che viene condotto, diciamo, a medio-basso livello. E poi abbiamo ancora la 7 e la fast. Ci concentriamo su questi colpi che sono poi generalmente, e ovviamente parliamo sempre in via standard, sono le combinazioni che vengono condotte dai centrali. Partiamo quindi con la nostra carrellata appunto dalla divisione femminile. Iniziamo con i giochi vicini. Vedete subito, quando l'attaccante stacca da terra, il pallone praticamente non è quasi ancora arrivato nelle mani del palleggiatore. Lo vediamo meglio tra poco in un fermo immagine. Però la rincorsa d'attacco viene messa, diciamo, in gioco nel momento in cui il pallone è ancora per aria per arrivare al tempo con il pallone molto anticipato. Il pallone si stacca di pochi centimetri sopra la linea del nastro e l'attaccante è già pronto col braccio caricato per poter colpire il pallone. Vedete che in questa ferma immagine ha già quasi effettuato lo stacco destro-sinistro con i passi speciali per scaricare il colpo. Passiamo a quest'altro schema, la sette. Il tempo è identico, ma la palla viene, diciamo colpita, a circa un metro e mezzo dal palleggiatore. Ovviamente questa esigenza richiede una grande intesa tra il palleggiatore e il centrale. Giochi dietro la B o la 2. Il centrale passa dietro le spalle del palleggiatore e va a colpire il pallone. Il pallone viene colpito, diciamo, soprattutto per quanto riguarda la divisione femminile con uno stacco ad un piede. Per quanto riguarda la divisione maschile, lo vedremo più tardi, normalmente si fa uno stacco a due piedi. Il tempo è leggermente rallentato rispetto a quella che è l'azione di primo tempo della 1 e della C e la distanza varia in funzione di quella che è lo schema chiamato. Vedete in questo caso questa è una 2, proprio vicinissima alle mani del palleggiatore. Se invece si stacca, diciamo di un metro, viene chiamata B. Vedete queste qui sono delle due, molto vicini al palleggiatore. Passiamo a vedere la fast che è un fondamentale d'attacco dei centrali prettamente delle divisioni femminili. La palla viaggia veloce sulla linea del nastro e viene colpita praticamente in asta dal centrale. Vedete che ovviamente questo tipo di schema è fatto e costruito per mettere in difficoltà il muro avversario. Con la palla in mano del palleggiatore, l'attaccante sta appoggiando il piede destro nel momento in cui il pallone viene rilasciato dalle mani del palleggiatore. Questo perché? Perché nel momento in cui c'è la fase di volo del pallone sviluppa ancora l'ultimo appoggio di sinistro per poi scaricare il colpo. Molto simile anche al terzo tempo del basket per intendersi. Passiamo a quella che è la divisione maschile. Intanto vi faccio notare come il pallone abbia una rapidità, come al solito è un anticipo, molto maggiore. Parliamo di quella che è l'incidenza dei colpi d'attacco di primo tempo. Intanto le varianti sono molto minori. Perché? Perché essendo il livello di servizio più elevato diventa complicato per i palleggiatori poter chiamare in causa i centrali nel gioco. Vedete che per dare il pallone al proprio attaccante centrale, in certi casi il palleggiatore deve fare proprio delle forzature in alzate. Però vedete anche quanto è incidente la percentuale del punto. Diciamo che un attaccante maschile in primo tempo fa punto dal 70 all'80% dei casi. Quindi logicamente essendo una variante molto molto efficace sotto il profilo della realizzazione viene chiamata in causa il più possibile. Ovviamente compatibilmente con quelle che sono le opportunità che la squadra avversaria ti mette a disposizione. Ultimata la parte sugli schemi d'attacco, adesso ci focalizziamo rapidamente su quelle che possono essere le interpretazioni del servizio con tecniche diverse, lavorando e esaminando in maniera approfondita sia la divisione femminile sia la divisione maschile, caratterizzando quelli che sono i modelli di prestazione e cercando di capire quali sono le differenze, come al solito, tra i due generi. Il servizio predominante in divisione femminile è, diciamo da medio livello, il salto flotte. Vedete come il pallone può intanto arrivare sia da posto 1 sia da posto 5, perché il regolamento permette di poter servire lungo tutta la linea di fondo campo. Il lancio può essere condotto in diverse maniere. Alcuni giocatori servono lanciando il pallone ad un braccio, altri a due braccia. Lo vedremo anche come differenza nel flotte maschile, per esempio. Vedete che il caricamento è minimale, il lancio è abbastanza basso. Se invece passiamo al salto spin, guardate il pallone quanto viene colpito più in alto. Il lancio è molto più alto, in maniera che il battitore possa sviluppare completamente la rincorsa d'attacco e possa, si dice in gergo, fasciare il pallone facendolo ruotare verso il campo in maniera da farlo scendere, lavorando col polso e dandogli quello che viene definito lo spin, la fase caratteristica di rotazione che lo fa chiudere oltre il nastro della rete, direttamente nel campo avversario. Salto flotte al maschile. Intanto vediamo come il giocatore lanci, in questo caso, con la mano sinistra. Ci sono diverse possibilità di lancio. Chiaramente il lancio, come è stato anche per noi, nel nostro piccolo, durante la nostra fase di esonoro di servizio, condiziona la qualità del servizio stesso. Ognuno lancia nella maniera in cui si sente più sicuro e preciso. In questo caso, in questo frangente, abbiamo un lancio invece che avviene a due braccia, come potete vedere. Una volta effettuato il lancio, che per l'assalto flotte è più basso e più vicino, diciamo, alla linea di impatto, con un movimento minimale viene colpito il pallone. Passiamo a vedere quella che è la caratterizzante della pallavolo maschile, cioè l'assalto spin. In questo caso, il giocatore si lancia il pallone con la mano sinistra, ma mediamente il lancio avviene con la mano, diciamo, che impatta il pallone. Guardate dove rilascia il pallone, in questo caso. E poi inarca fortemente la colonna per scaricare tutta la violenza di rincorsa. I lanci sono molto diversi, ogni giocatore ha la sua caratteristica. C'è il lancio che può avvenire con il gomito leggermente più alto, come in questo caso, e la frustata, vedete come passa in diagonale rispetto alla linea del tronco, rispetto a rimanere perfettamente in asse, come in alcuni frangenti visti sui lanci precedenti. Qui il lancio avviene con il gomito flesso, molto alto, e gli permette di sviluppare una rincorsa d'attacco molto lenta e compassata, per comunque continuare a vedere dei palloni molto veloci. Questo è quello che succede da dietro, la velocità d'impatto del pallone. Vedete come, in questo caso, il lancio è molto profondo e notate quanto inarca la colonna e dove atterra una volta effettuato il colpo. Qui parliamo del giocatore forse più forte attualmente al mondo, in questo fondamentale.